Oggi è il 14 novembre 2013 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dalla riete. Diffidate dell'improvvisazione e pensate bene prima di esprimervi e di muovervi. Dedicatevi ai vostri compiti con dedizione. Toro, la giornata si apre con uno stato d'animo molto pacato, che vi permette di guadagnare punti agli occhi di chiunque si rapporti con voi. Gemelli, oggi non peccate di ingenuità nell'affrontare le situazioni. L'euforia potrebbe indurvi a sottovalutare gli impegni. Cancro, non male questa giornata anche se dovrete giocare d'astuzia sia con gli eventi esterni sia con il vostro umore. Leone, non lesinate mai sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete professionali. Vergine, convincenti come non mai, porterete moltissima acqua al vostro mulino. Le occasioni ci saranno per chi lavora nello spettacolo. Bilancia, come recita il vecchio adagio, i sogni finiscono all'alba. Un imprevisto sul lavoro rischia di far saltare il vostro ruolino di marcia. Scorpione, secondo le stelle trarranno vantaggio da questo giorno i rapporti interpersonali, il vivere quotidiano. Sagittario, giorno davvero positivo. Merito soprattutto delle stelle. Intelligenza, circostanze fortunate e istinto viaggiano a braccetto. Capricorno, qualche piccola contrarietà dovuta ad astri dispettosi a ne mettere in conto. Acquario, il panorama astrale non promette scintille. Trascorrerete la giornata impegnati nelle solite cose. Pesci. Oggi sprizzate energia da tutti i pori. In società fate un figurone. Successo nel lavoro. Voglia di divertirsi. E anche per oggi è tutto. Per l'appuntamento dedicato all'oroscopo vi aspetto domani, come sempre, alla stessa ora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.